Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, oggi abbiamo una schiena nuova che si è stata volontaria e andiamo a fare un po' di robine che adesso vi spiegherò e state pronti? Anche la parte in cui faremo tracing sul tatuaggio e se vi piacerà ditemi se vorreste un video dedicato al tracing sulle tatuaggi, le mie a 6, 7, 6, 6, 6 e niente, adesso vi faccio un po' vedere e godete il video, ciao! Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, oggi come davo richiesto un altro video massaggi, questa volta abbiamo una schiena diversa come vedete, anche solo il tatuaggio, oggi faremo un po' di back scratching, quindi un po' di grattini con le unghie, poi un po' di grattini con le grattaschiena, in questo modo, mi piace molto quando si va verso il collo, anche così. Poi, visto che ci sono già i segni della bronzatura, andiamo a mettere un pochino di crema e poi ovviamente andiamo a fare un po' di brushing qui in questo tipo ventaglio, super morbido, che secondo me è perfetto. Quindi io direi che possiamo cominciare e cominciamo con un semplice micromassaggio. Anche verso il collo. ti sto tagliando un po' di pedra, non fa niente. Anche io, vedete? Anche io sento la fondatura. E dopo farò anche un pochino di tracing qui sopra, perché è un raggio stupendo e ovviamente avrei potuto ricaricarlo. Non posso non approfittarne. Lo vedrete, mi ha scritto pantare qui e poi anche delle farfalle qui sotto, come vedete? Ok. Partiamo con, proprio applicando pochissima pressione. Qui. E poi scendiamo. Qui. E poi scendiamo. Mi piace tantissimo anche seguire la corona vertebrale. Qui. E poi scendiamo. Qui. E poi scendiamo. E poi scendiamo. E guardiamo dall'alto. E andiamo lentamente a una spalla. Lentamente. lungo un'altra ti vedo in prevedino? andiamo su lungo il tatuaggio e poi lungo tutta la schiena non sto applicando la pressione in modo che sia un mezzo massaggio un mezzo solidichino rilassante e ancora se li prendiamo nel collo mi rifaccio anche la stessa cosa ok andiamo nell'altra spalla oggi è molto difficile e guardare il teore non è l'altro vediamo vediamo se se vediamo se lo so anche dall'altra parte e adesso vedo se ora mi metterò un po' di crema qui sopra adesso prendo questa crema che è al tè verde che è un tipo di luce che ha un odore anche molto bello ed è abbastanza corposo, non troppo ma neanche troppo di quello e partiamo con un pochino e poi nel caso ne aggiungiamo tutte le ultime pelle si comincia a spalmare c'è un amore tondo di più prima cosa c'è un po' di più andiamo un po' qui sotto e dall'altra parte e dall'altra parte approfitto il fatto che la crema sia un po' picci cosetta per farvi sentire le dita sulla schiena e dall'altra parte e non è un po' piccoli e non è un po' piccoli e adesso di nuovo sono indecisa però il grattaschieno, il pennello, tu cosa preferisci? il grattaschieno? il grattaschieno? questo qui viola? questo qui? come era stato prima? ok, l'ha scelto lei quindi, cominciamo ho un attaccato a una di capelli io sono strafissata con questo punto perché è uno dei punti che mi abbassa di più l'applico tipo qui che vuoi? che vuoi? Poi pian piano andiamo giù Ancora in mezzo e per la parte Questa è letteralmente tipo una taschina Secondo me può essere usato anche quando si ha un gesso e si siede a tardi da qualche po' che non fosse mai ripetato A me faceva un pro rito il coso che mi piace E adesso un po' a casa per fare un po' di onde E ancora un'altra volta Ancora in mezzo Mi faccio il tracing sul tatuaggio e poi la buonanotte Adesso andiamo a fare del tracing preciso con questo attrazzino che la dai per fare le punte dello smalto Bello complicato Intanto provo a spiegarvi cos'è E' una lingua esotica La regia mi dice una specie di sottolingua del polinesiano Tailandese Tailandese, la cosa c'è? E' una lingua esotica Ed è un auguri di buona vita In 1, 2, 3, 4, 5 Campi diversi Come amore Lavoro immagino? Giusto? Famiglia E' stranissimo provare a capire Non so Non so come anche sia composto una parola o una lettera Perché è totalmente diverso rispetto al nostro orfabeto Vedo Terza Ad esempio secondo voi questi qui? Sono di questa riga di questa? Soprattutto questi qui? Non so Ok Abbiamo tutte le G e le S Delle V M 2 Andiamo al quarto Cosa sembra il cuore? E E Unito il mio Adios Ok Cosa sembra Cosa sembra Il cuore E Ecco qua Cosa sembra Cosa sembra Ecco qua Cosa sembra È Cosa sembra Ok Direi che è Giunto L'ora Di a passare le luci e a coraggio una un'altra 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 e soni un'altra 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 Buonanotte pasticcini Un bacione Che li spera?